E' stato pubblicato oggi dal Comune di Salerno e scadrà il prossimo 19 settembre il bando di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione di Corso Vittorio Emanuele, il secondo lotto, per un importo base di gara di 5.380.000 euro. Lavori che daranno un nuovo look al Corso di Salerno, una gara che va ad aggiungersi al bando pubblicato ieri a procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi invece agli interventi di difesa, a riqualificazione e valorizzazione della costa, l'ambito 3, il secondo stralcio, per il completamento delle opere di ripascimento del lotto compreso tra Torre Angelara e il polo nautico. L'importo dei lavori in questo caso è di circa 7.200.000 euro, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 20 settembre. Opere importanti per la città di Salerno, come ha dichiarato ai nostri microfoni l'assessore comunale all'urbanistica Mimmo De Maio, che ha annunciato allo stesso tempo la pubblicazione nei prossimi giorni del bando per i lavori di via Fratelli Mignone per la bretella di collegamento tra via Irno e rione Petrosino, che porterà alla chiusura del passaggio a livello. Proprio in questi giorni sono stati pubblicati due bandi, uno relativo all'intervento di ripascimento degli arenili nella zona orientale, cioè il prolungamento, la continuazione di quello che è già stato realizzato l'anno scorso e quindi il pezzo che va da Torre Angelara verso il polo nautico con lo stesso sistema che è stato realizzato nel primo tratto immediatamente prima dell'Arechi. E quindi si conclude il terzo lotto anche qui con l'immissione di nuova sabbia e quindi garantire anche qui la messa in sicurezza del fronte del mare. E proprio stamane è stata invece pubblicata la gala relativa all'intervento di sistemazione di corso Vittorio Emanuele, cioè il tratto che è rimasto ancora da completare che va da via Santi Martiri fino a piazza Porta Nova. Per il giorno 19 invece sarà pubblicata la gara che consentirà la realizzazione dell'arteria dell'asse viario che dal rione Petrosino va verso l'uscita della tangenziale nel quartiere di via Petrosino e da quel punto si innesta questa viabilità che si è realizzata con questo programma su un'altra viabilità che è in itinere che dall'uscita della tangenziale in via Petrosino va verso l'abitato di Imbrignano e quindi consentirà di poter accedere alla tangenziale senza gravare con il sistema del traffico e delle auto su via Emanuele. Quindi un sistema che darà sicuramente un enorme beneficio al sistema della mobilità in quella zona e quindi sono lavori che partiranno sicuramente entro la fine di questo anno.